ecco mi sono fatto ammazzare ciao bello tutti ragazzi oggi siamo tornati a fare un nuovo video e giocheremo a questo che è Little Nightmares farti due cappelli sapete già dove è il cappello del porcione deve andare veloce così te lo lasci la no 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 ragazzi lo faccio io devo non fare niente devo non registrare troppo in sotto and win the Champions League and win the Champions League and win the Champions League ok ragazzi mortello vedete che lui lo non ha rispetto di noi andaccendo adesso continua Diego perchè è bravo però lui spara vuole provare a sparare adesso deve andare in cose cacchio io un minuto siamo giocati questo cappello lo trovate dalla maestra eccoci qua usciti da lui adesso Diego vai avanti vai ok avanti possiamo far vedere il punto della maestra? no nel prossimo capitolo che sarà domani vero Diego? allora vai su quella leva spingila per 6 ok succeda io sono vi ricordo che io sono la c'era un cappello ok lui è allora il nostro canale si chiama Maria Favali perchè non usare l'account di nostra mamma e quindi resterà sempre così e quindi non ci riusciamo a cambiare quindi Maria Favali per sempre non so non so BJ Diego devi chiamare ah capito 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 e poi riprendi la cosa ok signorina signorina signorena signorina senza lasciarla dove andai? dai prende la sua lincossina lascia adesso chiamala vai vicino e chiamala vedi che adesso ti danno la mano con R2 Che bravi che siete insieme E qua ci sarà Ve lo dico subito Questo cappello No Diego no Non finito? Ah qua invece Vedete questa qua Vedete? Là ci sarà un bel cappellino E dovrete andare a fare Dovrete saltare sopra E qua puoi andare qua e saltare E Saluto saluto Ciao a tutti ragazzi Alla prossima volta Ciao